Smart working, un orizzonte in continuo movimento che deve essere normato, l'abbiamo intitolata così questa tavola che ci fa riflettere appunto sul tema del lavoro agile, una scelta che è diventata obbligata insomma in pandemia ed era considerata soprattutto una svolta irreversibile, un dato ormai acquisito ma così non è, anche in questo caso vi cito alcuni dati perché appena il 14,9% degli occupati italiani lavora almeno in parte da remoto quando potrebbero farlo il 40% e c'è stato ecco nei confronti dello smart working una sorta di contrordine improvviso, categorico che è arrivato ovviamente non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, citavamo proprio le grandi aziende americane, la Silicon Valley ma anche gli uffici di Wall Street e voglio riportarvi ecco alcune parole significative di grandi boss come il boss di JP Morgan, Jamie Diamond che ha sentenziato lo smart working è il contrario della produttività, sono parole che sono state seguite dalla riflessione del CEO di Goldman Sachs, David Solomon che ha definito il lavoro da remoto un'aberrazione da correggere al più presto ora che la pandemia è alle spalle e non possiamo non citare l'onnipresente Elon Musk il quale sostiene quando devi fare sviluppo e innovazione non puoi pensare di lavorare a distanza perché questa modalità non consente di trasferire conoscenza tecnica e organizzativa. E allora ripartiamo proprio da qui per questa ultima tavola rotonda dal titolo smart working, un orizzonte in continuo movimento che deve essere normato. Io invito sul palco l'avvocato Carlo Fostati, signor partner studio legale Echino Brugnatelli Associati, Massimiliano Santamaria HR Matrix and Innovation e Elisabeth Camerini, HR Director by Barè Progetti. Benvenuti, prego. Ecco parliamo in questa ultima tavola rotonda di smart working che è un tema particolarmente sentito, l'abbiamo visto anche nella ricerca che ci ha proposto Doxa, era una delle voci che interpelliamo per capire anche il benessere e la qualità della soddisfazione del lavoratore. Cercheremo di capire anche se esiste poi un numero magico per interpretare e realizzare lo smart working. Ma prima di tutto ecco io partirei dal dottor Santamaria per fare un quadro generale della situazione, anche perché lo abbiamo detto lo smart working è passato da essere quasi una misura un po' di welfare per i dipendenti prima dalla pandemia a unico strumento invece di utilizzo per far andare avanti il business durante la pandemia. Ma questo cambio è avvenuto in tempi veramente troppo rapidi, non c'è stato il tempo giusto per progettarlo bene lo smart working e anche per misurarlo. Torna il concetto di misurazione. Ecco, grazie mille, grazie a tutti. Il tema è importante capire anche da dove siamo partiti. Io ho avuto la fortuna di approcciare lo smart working ben prima della pandemia, quindi ho avuto l'opportunità di vedere come le organizzazioni si stessero muovendo sul tema dello smart working e della flessibilità organizzativa. Quello che è accaduto è, diciamo, sotto gli occhi di tutti e quando diciamo andiamo nelle organizzazioni e cerchiamo di spiegare un po' qual è l'andamento dello smart working negli ultimi tre anni, si vedono proprio delle dinamiche chiarissime che sono legate alla pandemia. Quindi se i primi otto dieci mesi del 2020 sono stati contrassegnati da due obiettivi fondamentali delle organizzazioni, che erano il business continuity e il people safety. Io dovevo far andare avanti la mia organizzazione ma contemporaneamente dovevo garantire la sicurezza delle mie persone. Quindi quando si vanno a guardare le curve, questo lo potete trovare tranquillamente su Google, vedete sicuramente che i primi mesi, quelli del lockdown, c'è un utilizzo fortissimo dello smart working per poi sostanzialmente rientrare o tentare di rientrare in ufficio e se vi ricordate basta pensare a tutte le dirette del Premier Conte su Facebook dicendo ritorneremo dopo l'estate, rientreremo in ufficio. Era sicuramente un messaggio incoraggiante che comunque ha creato delle aspettative. Quindi nell'estate del 2020 che abbiamo vissuto tutti sappiamo che cosa è successo e a settembre 2020 abbiamo incominciato a rientrare in ufficio. Che cosa è successo? Seconda ondata. Quindi automaticamente un utilizzo ancora più forte dello smart working per far fronte alla seconda ondata della pandemia, quindi quella da ottobre diciamo a gennaio 2021 e poi sostanzialmente una stabilizzazione. Quindi un andamento delle curve che piano piano queste cunette andavano ad abbassarsi. Che cosa è successo? È successo che le organizzazioni hanno detto non possiamo andare avanti così, cioè non possiamo andare avanti con, e chiaramente da un punto di vista legale questo è stato un po' il tema, di uno stato emergenziale che è stato sempre buttato avanti, quindi un po' tiro un calcio al pallone, ma prima o poi nella pozzanghera finisce. E quindi che cosa è successo? L'organizzazione hanno detto non possiamo andare avanti così con non sapendo che cosa succederà. Quindi è cambiato completamente il mindset diciamo dei manager, dei senior manager ma anche dei middle manager abbiamo incominciato ad affrontare il tema. Affrontare il tema significa incominciare a parlare di misurazione, identificazione di quelli che sono gli indicatori che ci permettono di capire come la nostra organizzazione si sta muovendo e come sta reagendo. Quindi questo ci ha portato, diciamo, la maggior parte delle volte le organizzazioni, anche quelle meno illuminate, incominciavano a chiedere ma come possiamo misurare l'impatto e quindi abbiamo incominciato a costruire un, ma neanche un sistema di indicatori all'inizio, ma proprio uno storytelling di quello che stava accadendo. Quindi abbiamo incominciato a raccontare come le persone stavano vivendo e stessero reagendo alla pandemia all'interno dell'organizzazione. perché sicuramente lo smart working ci ha salvato dal, diciamo, dal contagio forte se fossimo sempre andati in ufficio, se avessimo continuato a fare quello che abbiamo fatto nel tempo. Però è anche vero che molte persone non erano preparate. Le persone non erano abituate ad andare in ufficio. Il fatto di rimanere a casa e sapere quello che bisognasse fare non era per tutti. Alcune organizzazioni non erano pronte, lo sono diventate. Il boost che c'è stato con la pandemia sicuramente ha portato a sviluppare molto velocemente delle cose, ma non siamo ancora completamente pronti. Quindi è qualcosa che dovremo consolidare. Prima l'abbiamo detto, i CEO di queste banche d'affari dove vogliono il junior banker accanto al senior banker per capire come billare i clienti piuttosto che capire come fare trading è un elemento. Un altro elemento però è che ad agosto 2021 5 milioni di americani hanno detto ciao ciao al lavoro e solo il 40% di loro aveva un'offerta di lavoro in tasca. Gli americani sono molto agganciati a un termine di gut, di pancia, cioè la sensazione che loro hanno. A volte reagiscono un po' di pancia. Hanno messo davanti il work life balance, cosa che stiamo incominciando a fare anche noi. Cosa che noi abbiamo incominciato a capire è che il nostro tempo, il nostro benessere, ha un valore e quindi su quello sicuramente sarà l'obiettivo coniugare quelle che sono le necessità organizzative a quelle che sono le necessità individuali. Ecco, il dottor Santamaria è passo qui all'avvocato Fossati nel suo intervento accennato proprio anche alla difficoltà dal punto di vista legislativo della regolamentazione di stare al passo con una situazione di emergenza ed in continua evoluzione. Ecco, senza ripercorrere naturalmente tutte le tappe, ma quali sono gli step dal punto di vista legislativo che ancora devono essere compiuti proprio per regolamentare questa materia che abbiamo definito in continuo movimento. Sì, guardate qui c'è prima di tutto da chiarire un punto che magari sembrerà un po' provocatorio, ma dal mio punto di vista è assolutamente la verità. Noi dal punto di vista gius lavoristico lo smart working in Italia non ce lo abbiamo ancora. Noi abbiamo una cosa diversa che è il lavoro agile che è stato disciplinato nel 2017, prima della pandemia, in un contesto, in un mondo in cui si ragionava della possibilità di lavorare a distanza, da casa, come di un'assoluta eccezione. Insomma, un mondo diversissimo da quello di oggi, anche se gli anni che sono passati sono relativamente pochi. Perché dico che non c'è una regolamentazione sullo smart working? Perché lo smart working dal punto di vista sociologico, della sociologia del lavoro e dal punto di vista economico non è semplicemente un problema geografico di da dove svolgo la prestazione. Lo smart working è un problema di flessibilità della prestazione, è un problema di possibilità di avere un lavoro misurato per obiettivi e non per ore lavorate, di essere svincolati dalla rigidità degli orari. Questo è lo smart working dal punto di vista della sociologia del lavoro e questo, attenzione, è lo smart working che consente ai lavoratori che lo attuano di avere un più elevato livello di engagement sulla base delle ricerche che sono state effettuate. Altro è il remote working contrapposto al lavoro on site. Il remote working è un tema essenzialmente geografico, cioè io non lavoro dall'ufficio, lavoro da casa o da un altro posto diverso dall'ufficio e paradossalmente noi sappiamo dalle ricerche che sono state effettuate che questo tipo di lavoro normalmente a livello medio, nel medio termine garantisce un livello di engagement più basso addirittura rispetto al lavoro on site, perché alla lunga è alienante e non dà i vantaggi di una gestione realmente flessibile del lavoro. Il problema quindi fondamentale non è tanto da dove lavoro, ma è se ho la possibilità di lavorare responsabilizzato per obiettivi, di lavorare essenzialmente svincolato dalle rigidità prima di tutto di orario tipiche del lavoro subordinato tradizionale. E allora qui sono obbligato, ma sarò velocissimo, a fare un passo indietro. Il problema per noi non è tanto la disciplina dello smart working del 2017 che comunque è un problema perché definisce lo smart working come una modalità di lavoro, scusate il lavoro agile perché questa è la definizione utilizzata dal legislatore, come una modalità di lavoro che viene svolta in parte dall'ufficio e in parte da fuori dell'ufficio. Questa è la definizione legislativa. Quindi il discrimen è geografico, punto. Il problema però non sta tanto lì, sta nel fatto che siamo nel mondo del lavoro subordinato. Il lavoro subordinato tradizionale nel nostro ordinamento giuridico è disciplinato così come quello autonomo da norme che sono state concepite e varate nel 1942 e non sono mai cambiate. Avete presente il 1942? Nessuno di noi c'era fortunatamente, ma comunque sappiamo che c'era la Seconda Guerra Mondiale, c'era l'operazione Barbarossa, era l'anno in cui Hitler tentava di invadere per la seconda volta l'Unione Sovietica, la battaglia di Stalingrado eccetera eccetera eccetera. È un altro mondo ma lontano milioni di anni dal punto di vista della sociologia del lavoro e delle dinamiche economiche del lavoro subordinato rispetto a quello di oggi. Non si può pensare che quei paradigmi possano andare bene ancora oggi. E quindi qui sono obbligato a dire una cosa probabilmente un po' impopolare. se noi andiamo oggi a riformare la disciplina dello smart working del lavoro agile del 2017 senza toccare i paradigmi fondanti del nostro sistema gius lavoristico non andiamo da nessuna parte. Perché il problema vero è che non abbiamo la possibilità di misurare la prestazione di un lavoratore subordinato per obiettivi perché l'articolo 2094 del Codice Civile contrapposto all'articolo 2222 non ce lo consente. Noi siamo ancora in un mondo dal punto di vista gius lavoristico in cui la contrapposizione, attenzione, contrapposizione perché questo è il termine giusto tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo si fonda sul concetto che la subordinazione, la prestazione di lavoro subordinato è una obbligazione di mezzi, mentre la prestazione di lavoro autonomo è un'obbligazione di risultato. Siamo ancora lì. Ora, se è un'obbligazione di mezzi, non c'è modo per poterla ancorare alla misurazione di obiettivi. Non c'è modo perché comunque il paradigma di fondo rimane quello della messa a disposizione delle energie lavorative, il tempo in cui il dipendente mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative. Questa roba qui è morta e sepolta nella realtà pratica, ma noi non possiamo pensare di implementare innovazioni che ormai sono imprescindibili nell'organizzazione delle imprese lottando contro ostacoli giuridici di questa portata. Non esiste. Cioè dobbiamo accettare il fatto che sono i paradigmi tradizionali del diritto del lavoro che vanno rifondati. Due su di tutti, ma sarò velocissimo perché ovviamente qui il tema sarebbe molto più ampio, ma non abbiamo il tempo e non è la sede giusta. Però due su di tutti. Primo punto, il primo fulcro, come dicevo prima, del nostro sistema giuslavoristico sta nel concetto della contrapposizione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Questo concetto è superato nella pratica da anni e va superato anche a livello giuridico. Bisogna trovare il modo di capire che oggi non è più una contrapposizione tra le due fattispecie, ma è un continuum all'interno della quale vanno viste tantissime sfumature di grigio. Non è bianco o nero. Secondo tema, fondamentale anche questo, noi viviamo in un mondo in cui dal punto di vista giuridico giuslavoristico esiste un principio di necessaria inerenza di tutto l'apparato di tutele previsto dal nostro ordinamento giuridico per il lavoro subordinato alla subordinazione. Mentre per il lavoro autonomo queste tutele non si applicano. Quindi è un meccanismo on-off. Non esiste la possibilità di modulare le tutele per tutte quelle fattispecie che di fatto sono intermedie nella realtà tra autonomia e subordinazione. Oggi se sei un lavoratore subordinato il meccanismo di tutele, l'apparato di tutele anche piuttosto ipertrofico che continuiamo ad avere all'interno degli articoli 2094 e seguenti del nostro codice civile ti si applica. Tutto. Se non sei un lavoratore subordinato non ti si applica. Niente. Zero. Il che è assurdo perché in realtà noi sappiamo che dal punto di vista socio-economico chi ha più bisogno di tutele molto spesso non è un lavoratore subordinato tradizionale occupato in una grande impresa. Chi ha più bisogno di tutele spesso è formalmente un lavoratore autonomo, decisamente più debole dal punto di vista socio-economico. Allora va trovato il modo di poter modulare queste tutele in modo tale che arrivino a chi realmente servono, di chi ne ha realmente bisogno. Solo se partiamo da lì poi possiamo occuparci della disciplina sullo smart working cercando di costruire prima di tutto una definizione di smart working, di lavoro agile che sia effettivamente aderente al concetto socio-economico dello smart working, cosa che oggi come dicevo assolutamente non è. Poi un'ultimissima considerazione su questo tema, teniamo presente un fatto che nella disciplina, una cosa che tra l'altro pochissimi ne hanno la consapevolezza anche tra gli addetti ai lavori, la legge italiana sul lavoro agile consente sempre di revocare il regime di lavoro agile con un congruo preavviso a tutte e due le parti, il che è un'altra cosa che a mio avviso è del tutto incompatibile con l'evoluzione che sta prendendo lo smart working e lo spazio che lo smart working avrà nel lavoro del futuro, perché la persona ma anche l'azienda deve poter contare sul fatto di avere un regime che gli consente per due, tre giorni alla settimana di lavorare fuori dall'ufficio per fare delle scelte di vita privata, per fare delle scelte le aziende dal punto di vista del risparmio sui costi, delle previsioni ragionevoli, non esiste che c'è la possibilità per l'azienda come per il dipendente di ripensarci in qualunque momento, perché questo è un non senso rispetto alla possibilità di pianificare sia la vita privata che quella dell'azienda. Io la ringrazio innanzitutto Avvocato perché ci ha aiutato anche a fare chiarezza, non solo dal punto di vista del vocabolario, lo sappiamo che utilizziamo magari impropriamente il termine smart working e dove lo smart working poi non c'è, c'è solo la possibilità di effettuare la prestazione da remoto, ma non è il vero smart working che come ci ha suggerito, deve contemplare una nuova modalità organizzativa del lavoro e il superamento della distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, iniziare a ragionare per obiettivi e non per orari fondamentalmente. Però io penso che questa sia ovviamente una questione legata alla regolamentazione, alla legislazione ma anche alla cultura, un fatto ecoculturale italiano che dobbiamo cercare di superare e io qui introduco proprio la dottoressa Camerini che invece è HR Director di Baivare Progetti che è una società invece di livello internazionale che opera nel campo delle energie rinnovabili con il quartier generale a Monaco di Baviera e diverse sedi in Italia e qui io volevo insomma capire, cercare di comprendere un po' qual è la visione proprio della nuova organizzazione del lavoro in una società che ha un profilo internazionale, se c'è una differenza nel concetto di flessibilità in Italia e all'estero visto che lei ci può portare una visione differente. Allora innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora direi che il punto centrale è proprio quello della cultura, nelle realtà multinazionali e io ho sempre lavorato in realtà multinazionali quindi posso portare questa testimonianza sostanzialmente la flessibilità per il lavoratore diventa il punto centrale quindi nella nostra realtà delle energie rinnovabili non ho potuto riscontrare all'interno proprio del gruppo e delle varie country, un gruppo che è presente ormai in tutto il mondo, una differente concezione relativamente a questo tema. Per noi è praticamente normale, la community HR del gruppo Baiva conta più di 70 persone per cui per noi è assolutamente normale organizzare call ormai a distanza piuttosto che prendere l'aereo e recarsi nelle varie località che era sicuramente una modalità affascinante e divertente ma anche molto costosa quando poteva essere applicata. Quindi per le multinazionali direi che è la norma avere introdotto lo smart working o l'agile working. adesso sarò anch'io più attenta nell'utilizzo preciso di questo termine. Quindi effettivamente adesso non ricordo se prima della pandemia nelle altre country era già in essere uno smart working più o meno formalizzato, probabilmente sì. in Italia, nelle varie società, Baiva Italia è presente con cinque società diverse, fanno cose diverse, c'era diciamo un terreno già fertile, già pronto per l'introduzione dello smart working o dell'agile e oltretutto l'avevamo anche riscontrata come una necessità da parte dei dipendenti. Era venuto fuori in maniera molto forte nelle indagini di clima che annualmente vengono condotte come primo punto d'attenzione. Quindi ci stavamo già lavorando quando è arrivata la pandemia e quindi di fatto lo switch è stato immediato. Da un giorno per l'altro è arrivata l'indicazione di lavorare immediatamente da casa. Ovviamente avevamo la tecnologia che ci ha consentito di poterlo fare. Quindi durante gli anni della pandemia abbiamo osservato quello che di volta in volta il governo emanava ma parallelamente abbiamo cominciato a lavorare per regolamentarlo al nostro interno sapendo che prima o poi l'emergenza sarebbe terminata. Tant'è che noi eravamo già pronti per la sottoscrizione degli accordi unilaterali e del relativo regolamento aziendale a luglio del 2021. Poi c'è stata l'ulteriore proroga dello stato di emergenza. Insomma alla fine con l'aprile dello scorso anno noi abbiamo fatto sottoscrivere gli accordi unilaterali a tutti i nostri dipendenti e devo dire che lo stiamo utilizzando con una flessibilità dentro la flessibilità nel senso che il settore nel quale operiamo è appunto molto particolare, quello delle energie rinnovabili e trovare persone in questo periodo, in questo settore con determinate competenze non è banale. Per cui ultimamente e sempre più spesso ci capita di assumere persone dislocate in varie regioni lontane dalle sedi operative e quindi qui torna il tema più volte riproposto della geografia per cui per noi è anche una necessità avendo bisogno di determinate competenze di assumere persone che anziché avere la possibilità di lavorare in smart working tre giorni su cinque lavorano cinque giorni su cinque ma non è un problema nel senso che fa parte proprio della nostra cultura. Ecco non è un problema dal punto di vista culturale e immagino che non ci siano riflessi negativi sulla produttività Esatto, questo era l'altro punto, le multinazionali lavorano per obiettivi, è l'altro aspetto peculiare e noi abbiamo un sistema di valutazione delle prestazioni che è uguale in tutto il mondo dove vengono fissati gli obiettivi a inizio anno, proprio adesso abbiamo chiuso il ciclo di valutazione delle prestazioni e non ho visto, non ho riscontrato e non mi è stato riportato nessun caso di low performer anzi devo dire che sia la parte proprio del raggiungimento degli obiettivi spesso viene superata e anche il livello di engagement continua a essere molto alto cioè per noi, io in questo momento pensare di tornare indietro come stanno facendo negli Stati Uniti lo vedo un problema ma per il semplice fatto anche dell'attrazione di giovani la prima, se non la prima, la seconda domanda che ci sentiamo fare in colloquio è avete lo smart working? Sì o no? Se la risposta fosse no, arrivederci e grazie ormai è così, questa è la nuova è uno dei driver appunto del cambiamento, di scelta work life balance vuol dire smart working che probabilmente in un'accezione più ampia e anche che io sposo in pieno non vuol dire lavoro dalle 9 alle 18 da casa o da campagna o dal mare ma lavoro proprio per obiettivi, quindi se dalle 9 alle 11 ho da fare delle mie cose personali lavorerò dalle 10 a mezzanotte, cioè deve essere questo un po' il... ed è quello che... Certo, un cambio di paradigma, chiaramente Ecco, io torno dal dottor Santamaria proprio prendendo spunto dall'esperienza diretta ma anche dai dati che ci ha portato la dottoressa Camerini perché sembra proprio che questa modalità organizzativa dove c'è una maggiore flessibilità non abbia dei punti deboli, insomma aumenta o comunque rimane stabile la produttività c'è un maggior beneficio nella work life balance c'è anche un riflesso positivo sull'ambiente perché magari anche c'è una riduzione dello spostamento quotidiano, le lunghe file mattutine che tutti abbiamo sperimentato per raggiungere il posto di lavoro, quindi abbiamo un'evidenza dei dati ma questa evidenza dei dati non convince le aziende italiane, i leader anche delle aziende italiane e non solo, ad applicare questa nuova modalità organizzativa Perché? Allora... Scusi, concludo È un problema legato al leader di controllo? Sicuramente c'è un tema e qui mi ricollego a quello che hanno detto i due speaker prima di me da un lato noi abbiamo un'infrastruttura diciamo del lavoro un po' vecchiotta 42 un po' vecchiotta e dall'altro c'è un tema culturale quindi ci scontriamo da un lato su quello che è poter mettere in piedi qualcosa di veramente agile e flessibile e dall'altro il fatto di portare le persone ad avere, quindi ad avere un cambio culturale importante Allora, innanzitutto non tutte le organizzazioni hanno delle polisi di lavoro agile magari hanno soltanto dei contratti individuali quindi non c'è semplicemente un pezzo di carta che permette di fare lavoro agile ma non c'è un qualcosa che sia un sistema anche valoriale di comportamento su cui lavorare in agile all'interno delle organizzazioni questo significa dare un'idea e una visione prospettica di quello che deve essere e quindi creare l'engagement da una parte quindi incominciare a condividere i valori che le persone devono sentire anche proprie per poter lavorare al meglio e dall'altra parte un sistema di obiettivi quindi prima della pandemia le matrici che avevamo sempre sui concetti di values and behaviors cioè io ho dei valori e devo agire dei valori attraverso dei comportamenti questa coerenza addirittura molte organizzazioni le hanno inserite all'interno dei performance management quindi all'interno di un sistema per obiettivi la pandemia ha spostato sicuramente gli equilibri e quindi chi era tecnologicamente pronto è partito chi non era tecnologicamente pronto ha rabbattato anche la pubblica amministrazione se il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri se vedete sul loro sito nel 2020 era stata fatta una ricerca e sono emerse delle cose interessanti ma per ritornare al punto non tutte le organizzazioni sono pronte c'è ancora il tema del controllo e quindi voi pensate a quante organizzazioni prima attuassero un sistema di lavoro agile non dico smart però volgarmente anche smart working di 5 giorni su 5 quindi full remote da una parte e adesso sono ritornate ad avere un giorno la settimana di smart quindi gli altri 4 vieni in ufficio perché ho fatto un giorno? perché quella è moda e tendenza non ha alcuna finalità non ha alcun valore se io per un anno e mezzo ho lavorato tranquillamente in full remote perché adesso devo ritornare in ufficio per 4 giorni e me ne lasci solo uno? perché se no me ne vado la gente se ne sta già andando il fenomeno delle great resignation del big quit come lo dicono gli americani si sta verificando anche in Italia quindi gli imprenditori o i manager illuminati l'hanno percepito e stanno cercando di capire come arginare questo ma non si argina solo con il lavoro agile è una leva l'altra leva è lavorare veramente per obiettivi quindi avere un sistema di performance che ti permette di fare le cose è chiaro che noi non chiediamo alle persone di lavorare 24 ore da un punto di vista sindacale spesso ti dicono la disconnessione ce l'hai alle 21 sì ma se io lavoro in una multinazionale in cui mi occupo di logistica e il mio polo logistico è in Cina io alla 21 non mi posso disconnettere io mi connetto quindi la flessibilità è sicuramente anche lasciare alle persone la capacità di agire o di definire quando fare le proprie attività e questo è sicuramente un termine di misurazione se prima della pandemia i classici misuratori erano assenteismo quindi quanto la gente sta malata non viene, infortuni piuttosto che costi quanto mi costa il taxi, la trasferta i vari allowance che noi abbiamo la testimonianza della dottoressa Camerini è stata con la pandemia abbiamo ridotto diciamo i viaggi all'estero abbiamo aumentato sicuramente le videoconferenze che da un lato va bene dall'altro lato perdi anche magari un po' di quindi qualche volta lo devi sempre fare adesso gli indicatori sono totalmente differenti il termine di ESG che oggi viene tanto e quindi anche gli obiettivi dell'agenda 2030 piuttosto che tematiche di D&I quando c'è stato il lockdown se vi ricordate una delle prime cose che ha fatto vedere il TG1 era la famosa nube di smog sopra la pianura padana che si dissolse quindi se ci dimentichiamo quello che abbiamo vissuto perdiamo un po' il bagaglio di esperienze quella fortuna di aver accumulato di aver vissuto delle esperienze che dobbiamo portare oggi metterle a regime e farle effettivamente girare sicuramente la tematica dell'impatto ambientale è fondamentale perché il bilancio sociale di tante organizzazioni c'è dentro il discorso del bilancio sociale ci sono le tematiche di inclusione ci sono le tematiche di benessere è uscito forse tre giorni fa il BES 2022 dell'Istat che è uno dei documenti più interessanti che ci siano perché ci dà un panorama di quello che come le persone vivono in Italia straordinario ed è pubblico quindi sicuramente dobbiamo portare gli imprenditori e i manager a ragionare in una certa maniera ma quando ti trovi a fare una policy di smart working in cui le prime tre domande che ti fanno è ma io li devo fare autorizzare il giorno di smart working da parte del responsabile la mia risposta è quante volte lo rifiutano mai e allora perché lo metti nella policy che senso ha non possono non possono prendere ferie agganciate un giorno di smart perché quindi il tema del controllo ancora c'è il tema del controllo il tema del cambio culturale non tutti possiamo fare smart working lo smart working viene visto come adesso non entriamo nelle tematiche ma nella pubblica amministrazione fanno smart working a lei non lavorano ma se fosse stato veramente così la macchina il motore dell'Italia e la pubblica amministrazione se veramente si fosse fermata noi in due anni che fine avremmo fatto e questo è il punto sì è vero che ha rallentato il brutto perché tante cose non hanno funzionato proprio abbiamo visto il meccanismo delle ispezioni si è piantato completamente ma per dirne uno ma molti meccanismi si sono rallentati perché non erano pronti ma se non cogliamo l'esperienza quindi se non ragioniamo su quello che abbiamo fatto per migliorare i processi attuali lì ci fermiamo questo è un tema assolutamente ma è proprio una un minuto a conferma di quello che ho sentito adesso due considerazioni banalissime uno voi parlate di smart working cinque giorni su cinque ed è giustissimo perché in tante organizzazioni è fondamentale bene per l'ordinamento giuridico italiano a oggi non esiste si poteva fare in regime emergenziale finito il regime emergenziale lo smart working al cento per cento non c'è nel nostro ordinamento giuridico è una una cosa diversa il telelavoro che ha tutta un'altra regolamentazione rigidissima praticamente pochissimo attuata perché è quasi impercorribile quindi già un elemento di rigidità che è assurdo che non possiamo tenere secondo il nostro paese è praticamente l'unico ancora ma compresi i paesi del del blocco europeo continentale che hanno elevati tradizionali elevati livelli di tutela del lavoratore analoghi al nostro il nostro paese è ancora un paese in cui per low performance non si può licenziare neanche facendo dei percorsi come succede in altri paesi il low performer di per sé non è licenziabile in Italia puoi licenziarlo poi ci arrivi lo stesso perché è il nostro lavoro quindi in qualche modo ci riusciamo ma ci arrivi invariabilmente per vie traverse complicate e ogni volta che devi spiegare a un investitore straniero che in questo paese il low performer di per sé non lo puoi licenziare non è che ne usciamo benissimo a dimostrazione del fatto che il problema della misurazione del lavoro subordinato del lavoro subordinato non del lavoro autonomo del lavoro subordinato per obiettivi è imprescindibile se non sblocchiamo questo passaggio qua e per farlo dobbiamo avere il coraggio di mettere mano all'articolo 2094 all'articolo 2222 del codice civile non se ne esce ecco avvocato Fossati abbiamo detto che questo cambio culturale legato naturalmente al cambio anche di regolamentazione e legislazione è una delle sfide che attendono i gius lavoristi del futuro non l'unica ce ne sono tante e io voglio accennare almeno anche al problema dell'intelligenza artificiale perché insomma qui siamo di fronte a un altro grande cambio di passo un'altra grande rivoluzione a cui la legge dovrà adeguarsi e quindi ecco io le chiedo in breve naturalmente di dirci quale sfide la fascinano e la spaventano di più in quanto gius lavorista guardi qui sarò rapidissimo perché il tema sarebbe infinito però partiamo da un presupposto che intanto a oggi credo che sia ragionevolmente impossibile ma persino per gli addetti ai lavori capire esattamente dove si arriverà con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale perché lo scenario che abbiamo oggi è quello di piattaforme che garantiscono senza dubbio prestazioni superiori rispetto all'intelligenza umana per quanto attiene l'immagazzinamento di dati e la capacità di processarli in tempi rapidi e qui siamo tutti d'accordo ma questo di per sé è un fattore che mi pare di poter valutare come esclusivamente positivo anche in termini di potenziale impatto sul lavoro ma poi c'è la capacità di ragionare di costruire dei ragionamenti anche creativi sulla base di quel percorso di immagazzinamento e processamento dei dati e qui fino a ora da quello che ho capito da non addetto ai lavori in realtà siamo ancora in una fase in cui le prestazioni dell'intelligenza artificiale sono inferiori mediamente rispetto a quelle dell'intelligenza umana ora questo accade perché ci sono ancora come tutti sappiamo degli errori le cosiddette allucinazioni come le chiamano e non sappiamo per ora se saremo in grado e con quali tempi di correggere questi difetti che queste piattaforme ancora hanno e quindi fino a che punto riusciremo ad avere delle prestazioni comparabili o addirittura superiori rispetto a quelle tipiche dell'intelligenza umana allora è chiaro che qui è un punto di partenza che ha di per sé degli sviluppi potenzialmente molto difficili da prevedere però quello che mi sentirei di dire è questo pensare di affrontare le sfide che l'intelligenza artificiale porrà al mondo del lavoro un domani secondo le stesse logiche con cui abbiamo affrontato quelle della robotizzazione probabilmente è un suicidio nel senso che l'intelligenza artificiale può distruggere potenzialmente posti di lavoro con logiche qualitativamente non solo quantitativamente diverse rispetto a quelle della robotizzazione tant'è che si parla ormai abitualmente del fenomeno potenziale della cosiddetta sostituzione intellettuale cioè lo scenario possibile è quello di un'intelligenza artificiale che sia un domani in grado di svolgere autonomamente mansioni addirittura creative quindi si parla si parla del marketing si parla delle strategie commerciali ma si parla addirittura degli sceneggiatori di Hollywood voi sapete che gli sceneggiatori di Hollywood in questi giorni sono in sciopero e che questo mette tra l'altro a rischio una buona parte dell'economia californiana con dei numeri spaventosi tra l'altro in realtà i motivi dello sciopero per quello che sappiamo in Italia sono altri fondamentalmente sono legati a tematiche economiche a tematiche di stabilità e di sicurezza di prospettive ma in realtà per quello che risulta a me non mancano anche rivendicazioni relative proprio al tema centrale del governare in termini di prospettiva futura il processo della potenziale sostituzione da parte dell'intelligenza artificiale delle attività svolte dagli sceneggiatori sceneggiatori romanzieri liberi professionisti professioni intellettuali tradizionali sono tutti a rischio potenzialmente ora un mondo in cui in cui le mansioni più qualificanti riservate all'uomo quelle che ne garantiscono la realizzazione anche come persona sostanzialmente potenzialmente scomparirebbero e questo è lo scenario descritto da Elon Musk non è che lo descrivo io insomma lo descrive Elon Musk ne ha parlato mi pare in una recente intervista anche un grande artista come Peter Gabriel ne ha parlato Bill Gates questo scenario non è così fantascientifico dipende in concreto da quanto saremo in grado di correggere gli errori e i difetti che queste piattaforme oggi ancora hanno ora un mondo in cui alle persone restano potenzialmente soltanto le mansioni manuali perché alla fine sono queste quelle che l'intelligenza artificiale non può svolgere è molto diverso da un mondo in cui si può pensare che l'intelligenza artificiale sostituisca mansioni rutinarie lasciando poi alle persone quelle un pochino più elevate anzi più spazio per svolgerle meglio allora lo scenario è uno scenario per come la vedo io potenzialmente pericoloso con impatti in termini di 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 potenziale di potenziale criticità sociale e quindi anche gius lavoristica assolutamente incontrollabili assolutamente incontrollabili allora probabilmente probabilmente per arrivare a una situazione come quella che ho sentito descrivere da uno speaker che ci ha preceduto in cui prendiamo il meglio dai due mondi cioè riusciamo a avvantaggiarci della maggiore capacità dell'intelligenza artificiale di immagazzinare processare dati in tempi velocissimi e grazie a questo miglioriamo le nostre prestazioni di uomini e questo è un mondo ideale e che deve essere l'obiettivo naturalmente ma per arrivare lì a mio avviso temo che sia indispensabile governare il processo da adesso e questo non è un tema gius lavoristico cioè se arriveremo a occuparci dal punto di vista del diritto del lavoro delle conseguenze dell'intelligenza artificiale in termini anche solo vicini a quelli ipotizzati da Elon Musk e allora il diritto del lavoro sarà l'ultimo dei nostri problemi una situazione che probabilmente dice ci sfuggirà di mano ma non c'è modo ma se lo immagina Elon Musk parla di reddito universale cioè reddito universale concepito come una specie di reddito di cittadinanza moltiplicato a livello mondiale cioè questo qui non è ma non è neanche Orwell è un film dell'orrore insomma altro che diritto del lavoro chiaro una battuta conclusiva dalla dottoressa Camerini perché abbiamo visto insomma di che portata sono le sfide per i gius lavoristi del futuro invece ecco dal suo punto di vista c'è quello di direttore delle risorse umane la sfida principale che si ritroverà ad affrontare o che già si trova ad affrontare abbiamo visto che non è una sfida organizzativa perché nella sua organizzazione nella sua azienda il concetto di flessibilità è già adottato e quindi quale potrebbe essere? Allora quella che io vedo e prevedo è sostanzialmente quella della retention quindi di continuare ad avere un'organizzazione che si evolve costantemente con i tempi moderni possibilmente li anticipa e che è sempre attenta all'ascolto dei bisogni delle persone quindi nel momento in cui l'azienda non è più così attenta a percepire anche i segnali deboli di quelle che sono le necessità i dipendenti che oggi abbiamo detto sono sicuramente avere la conciliazione vita privata lavoro attraverso lo smart working ma poi passerà cioè questa verrà data per scontata e quindi probabilmente l'introduzione di altri strumenti che possano consentire al lavoratore di lavorare tranquillamente performando sempre ai massimi livelli quindi direi sempre un ascolto molto attivo molto attento proprio per non per trattenere i talenti e valorizzarli al meglio perché il settore di energia rinnovabili sta esplodendo ed è iniziata la guerra dei talenti prima si parlava di talenti anni fa c'era nel campo dell'informatica adesso c'è nel settore delle energie rinnovabili alcuni profili non esistono ancora o se ci sono sono veramente molto pochi e bisogna addirittura andarli a catturare nelle università perché anche dal punto di vista ecco della preparazione scolastica stanno iniziando adesso a uscire fuori le prime competenze io ringrazio molti i miei speaker l'avvocato Carlo Fossati signor partner dello studio legale Echino Brugnatelli Associati Elisabeth Camerini HR Director by Varie Progetti e Massimiliano Santamaria HR Matrix and Innovation grazie per aver chiuso questo HR Forum grazie ringrazio il pubblico in sala per aver assistito a tutta la nostra nostra mattinata di confronto attraverso queste tavole rotonde naturalmente un saluto anche al pubblico a casa chi ci ha seguito in streaming sulle fonti appuntamento naturalmente all'anno prossimo ringrazio il pubblico a casa grazie per aver guardato 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 grazie per aver guardato